torniamo a parlare di video confronti in questo caso abbiamo due dispositivi della casa sud coreana samsung samsung m20 sulla sinistra e il samsung a50 sulla destra appartenenti diciamo alla fascia media anche se poi in realtà le m20 più bassa come fascia mentre la 50 è una fascia leggermente più alta i prezzi di lancio 229 euro per le m20 uscito fine febbraio inizio marzo ancora tende a mantenere quel prezzo sia sullo store di samsung che su amazon che sono poi i rivenditori ufficiali viene venduto a 229 euro per ora non l'ho ancora visto in nessun negozio tramite qualche offerta è possibile acquistarlo intorno alle 210 219 euro ho avuto la fortuna con uno sconto in passato su ebay ad averlo trovato a 180 euro e come ho già detto nei video precedenti il prezzo secondo me più giusto per questo dispositivo è 180 massimo 190 euro 359 euro per il samsung a 50 un prezzo anche in questo caso piuttosto elevato uscito a marzo è subito però calato intorno ai 250 270 euro attualmente quindi fine aprile possibile trovarlo su ebay con offerta anche a 240 euro da un rivenditore affidabile con molti feedback positivi 240 260 euro è un prezzo più onesto per questo dispositivo ed è poi il prezzo che secondo me quello che poi vale di più perché in entrambi i casi posso parlare di dispositivi di buona o ottima qualità ma in funzione non del prezzo di lancio cioè reputo a 180 euro buono sicuramente l'M20 e a 250 euro buono sicuramente la 50 ma non li considero dei veri e propri best buy come potrebbe essere invece in funzione del rapporto qualità prezzo il redmi note 7 detto questo e quindi dopo aver visto il prezzo confezioni le confezioni sono praticamente identiche hanno la stessa dotazione quindi cuffiette in entrambi i casi anche se bianche per l'M20 e nere tutta la dotazione nera per quanto riguarda la 50 anche il caricatore da muro è della stessa portata quindi 5 volt 2 ampere per entrambi con ricarica fast car da 9 volte 1.67 ampere per entrambi i dispositivi i tempi di ricarica sono differenti un'ora e mezza un'ora e 40 un'ora e 45 massimo per la 50 batteria interna integrata al litio da 4000 mAh e poco più di due ore per quanto riguarda l'M20 con batteria integrata al litio da 5000 mAh per quanto riguarda invece il sistema operativo entrambi vengono lanciati con o meglio prima parla del sistema operativo parliamo di estetica allora in entrambi i casi la colorazione è black diciamo che è un nero un po' differente dal solito perché nel caso dell'M20 questo colore questo colore nero è più che altro un blu scuro un blu notte quasi grigio con come abbiamo detto realizzato in plastica opaca trattiene abbastanza le impronte mentre per quanto riguarda la 50 è realizzato sempre in policarbonato però con un effetto lucido e specchiato inoltre colpito dalla luce crea questi effetti di colore in questo caso d'arcobaleno molto interessante e molto bello ovviamente al tatto entrambi si capisce che è plastica però trovo la plastica del della 50 non solo più bella da guardare ma anche leggermente migliore rispetto a quella del dell'M20 l'unica differenza che ho notato è che le impronte tendono a rimanere di più sulla sulla scocca posteriore della 50 rispetto a quella dell'M20 inoltre è possibile notare come nella 50 c'è un sistema a tre fotocamere disposte a semaforo più il flash led mentre invece sul retro troviamo un sistema due fotocamere più flash led più c'è il lettore di impronta digitale che invece manca sulla 50 in basso invece sono presenti per entrambi i dispositivi le porte d'ingresso usb type c 2.0 quindi non la 3.1 quindi nessuna uscita video il jack classico per le cuffie disposte sul lato destro e poi c'è il microfono principale e la cassa dell'altoparlante disposta invece a destra sul lato invece sinistro abbiamo in entrambi i casi lo slot per le sim in pratica è possibile in tutti e due i casi avere sia doppia sim per la gestione quindi della doppia scheda telefonica sia l'espansione di memoria quindi nessun diciamo differenza in questo caso sul lato destro per entrambi troviamo il tasto di accensione posizionato diciamo nella stessa posizione più in alto il bilanciere del volume in entrambi i casi non sono zigrinati ma tendono a non ballare troppo e sono realizzati praticamente lo stesso modo in quanto il frame per entrambi è completamente un unico blocco con la scocca posteriore e quindi in entrambi i casi in plastica in alto invece troviamo il microfono secondario per la soppressione del rumore in entrambi i casi manca l'infrarosso come per esempio lo aveva il redmi note nella parte anteriore troviamo la fotocamera anteriore i sensori di prossimità di luminosità e la cassa dell'altoparlante che in entrambi i casi è posta leggermente in alto rispetto alla fotocamera principale notch a v infinity display v infinity display per quanto riguarda l'M20 mentre il notch è a u con u infinity display per quanto riguarda invece l'A50 accendiamo intanto i dispositivi anche per vedere i tempi di accensione per entrambi e parliamo di hardware abbiamo nel caso dell'A50 un Samsung Exynos 9610 a 10 nanometri 4 core a 2.3 GHz e 4 core a 1.7 GHz una Mali una GPU Mali G72 MP3 4 giga di RAM in questa versione LPDDR4 128 GB di memoria interna UFS 2.0 quindi memoria molto veloce intanto abbiamo visto come l'M20 nonostante sia comunque di fascia più bassa sia acceso prima dell'A50 la 50 invece l'M20 si risponde con un Exynos 7904 a 14 nanometri abbiamo due corda 1.8 GHz e 6 corda 1.6 GHz quindi in entrambi i casi octa core poi abbiamo una GPU Mali G71 4 giga di memoria RAM LPDDR4 64 GB di memoria interna come abbiamo visto espandibile di tipo EMC 5.1 quindi leggermente più lenta come memoria dopo aver parlato dei processori prima di arrivare a qualche test di benchmark parliamo di connettività in entrambi i casi abbiamo la banda 20 l'LTE è di categoria 10 per quanto riguarda l'M20 anche se in realtà la categoria in questo caso è di tipo 6 ed è la stessa cosa che succede anche per l'A50 perché come ho spiegato nel video precedente nonostante l'LTE il processore riesca ad arrivare stato diciamo ingegnerizzato fino ad un'LTE categoria 12 comunque è stato castrato l'LTE è di categoria 6 anche in questo caso GPS GLONASS BAIDU e anche Galileo per la 50 non è Galileo per l'M20 wifi dual band per la 50 mono band per l'M20 bluetooth 5.0 su entrambi i dispositivi su entrambi i dispositivi non è presente il led di notifica è presente in entrambi l'NFC per quanto riguarda il led di notifica qui si riesce a sopperire con la presenza dell'always on display mentre qui nell'M20 invece dobbiamo fare affidamento solo ad una funzione interna di promemoria per le notifiche per l'M20 funzione di notifica di avviso presente comunque anche nella 50 che in definitiva quando parlerò poi di software è comunque più completo rispetto all'M20 per quanto riguarda in pratica i test partiamo con AnTuTu ovviamente il processore più potente della 50 è nettamente migliore rispetto all'M20 quindi i punteggi risulteranno più alti anche per quanto riguarda 3DMark anche per quanto riguarda il test di GIMBEC e ovviamente anche per quanto riguarda PCMark anche se nel PCMark si è comportato piuttosto bene in questo caso l'M20 per quanto riguarda i test sulle memorie in lettura vince sia in lettura che in scrittura vince ovviamente la 50 però è da prendere in considerazione come comunque le velocità le memorie nonostante siano di tipo MC5.1 per l'M20 sono molto veloci sia in lettura che in scrittura per quanto riguarda invece la possibilità di vedere video in HD su Netflix su Prime Video eccetera nessun problema in quanto il Widevine sono entrambi di tipo L1 quindi sbloccati in entrambi i casi per quanto riguarda il test sulla banda della rete prendono entrambi bene non c'è una netta differenza fra i due forse leggermente migliore la 50 anche la qualità inchiamata e preferisco quella della 50 e anche come ci sentono a quanto pare è migliore il servizio con la 50 poi per quanto riguarda invece il test del 4G LTE team in entrambi i dispositivi all'aperto ho raggiunto più o meno gli stessi valori con un massimo di 33 MB al secondo per la 50 e un massimo di 31 MB per l'M20 qui da qui si capisce come le velocità in download sono abbastanza simili anche perché non c'è una netta differenza delle LTE fra l'uno e l'altro mentre in upload ho avuto addirittura valori più elevati con l'M20 rispetto all'A50 che però si è attestata sempre su dei valori più o meno stabili di 20-21 mentre qui è arrivato nell'M20 anche a 19 quindi nessun problema anche per le LTE per quanto riguarda invece il GPS è migliore quello dell'A50 anche per quanto riguarda il numero dei satelliti che riesce a vedere mentre nel caso dell'aggancio ho trovato più rapido l'aggancio dopo aver scaricato i dati a GPS tramite Wi-Fi ho trovato l'aggancio più rapido nell'M20 una volta però che agganciano il segnale sono in entrambi i casi diciamo va bene non c'è un margine di errore elevato per tutti e due i telefoni mentre per quanto riguarda invece il GPS interno più o meno diciamo si comportano lo stesso modo addirittura l'M20 riusciva a vedere più satelliti rispetto all'A50 anche in questo caso l'aggancio è stato più o meno rapido per entrambi forse leggermente più rapido nell'M20 per quanto riguarda il test del Wi-Fi in entrambi i casi tenendo conto che ho una rete Alice 30 MB con Team Fibra più o meno ho raggiunto praticamente gli stessi valori però anche in questo caso in download l'A50 si è comportato meglio in quanto si è attestato sempre su dei valori 27-28 MB al secondo mentre invece addirittura l'M20 era sceso in un primo tratto era arrivato a 21 MB ma per contro in upload è riuscito a raggiungere ben 4,18 contro i 3,98 come valore massimo dell'A50 quindi anche per quanto riguarda il Wi-Fi si comportano entrambi bene anche in questo caso ho notato però che l'aggancio nel Wi-Fi è leggermente più rapido nell'M20 rispetto all'A50 tornando un po' indietro facendo un passo indietro e parlando nuovamente della questione legata all'estetica e alle dimensioni abbiamo diciamo una piccola differenza tra i due dispositivi soprattutto per quanto riguarda l'altezza in pratica come si può anche vedere nel video l'M20 è leggermente più piccolino rispetto all'A50 perché parliamo di una lunghezza per l'M20 di 156.4 contro il 158.5 della 50 la larghezza invece è la medesima 74.7 contro 74.5 lo spessore è l'elemento che differenzia alla fine i due elementi in quanto abbiamo 7.7 mm per l'M50 e 8.8 mm per l'M20 che però con una sorta di gradino tende quasi a mascherare questo spessore più cicciotto inoltre l'M20 si tiene comunque meglio in mano rispetto all'A50 l'M50 è sicuramente più elegante ma le maggiori dimensioni nonostante lo spessore minore portano ad un utilizzo migliore ad una mano con l'M20 rispetto all'A50 altra ulteriore differenza sta nel peso perché abbiamo solo 166 grammi per l'M50 contro i 186 grammi dell'M20 differenza dovuta anche al fatto che nonostante siano entrambi in policarbonato qui abbiamo una batteria da 4000 e qui una batteria da 5000 mAh nella parte inoltre posteriore in entrambi i casi abbiamo una fotocamera praticamente a filo per nulla sporgente nell'M20 veramente bella questa dotazione e per contro questo lettore d'impronta che come ho detto già nei video precedenti è praticamente a filo e non si capisce bene il distacco rispetto alla scocca quindi con la sua posizione poi troppo in alto è abbastanza difficile in certi casi da toccare mentre invece abbiamo una fotocamera leggermente più sporgente per l'M50 rispetto all'M20 quindi non è praticamente a filo però come vediamo comunque se nell'M20 diciamo non tenta addondolare la stessa cosa non succede nemmeno nella 50 perché questa sporgenza è lieve poi in entrambi i casi i notch sono come vediamo piuttosto ridotti diciamo che non ho una preferenza elevata per l'uno o per l'altro perché sono due notch piuttosto ottimizzati e quindi non c'è una netta differenza fra i due sistemi per quanto riguarda invece le cornici trovo leggermente migliori quelle dell'M20 perché c'è una maggiore simmetria sia tra le parti laterali che in alto simmetria che trovo anche per quanto riguarda la 50 ma il mento come possiamo vedere è più ridotto nell'M20 rispetto alla 50 la 50 ha un mento leggermente più elevato e questo si va a discostare di molto rispetto alle cornici e al bordo superiore cosa che fa meno l'M20 abbiamo detto quindi il fatto del colore e passiamo a questo punto al display allora per quanto riguarda il display abbiamo due tecnologie due dimensioni differenti perché abbiamo un 6.3 pollici per l'M20 ed è un full HD plus 1080 x 2340 pixel 409 ppi con un'area coperta dal display pari a 83.85% è un display con tecnologia PLS TFT infinitiv display per la forma del notch ed è protetto da Dragon Trail 2.5D ai bordi con un contrasto di 1102 a 1 luminosità massima 460 candela al metro quadro con un minimo di 4.07 a metro quadro infatti i punti di nero sono diciamo abbastanza no il punto di nero alla minima luminosità comunque il display non risulta proprio scuro mentre il nero è di circa 0.41 nits per quanto riguarda invece l'A50 risponde con un display da 6.4 pollici full HD plus 1080 x 2340 pixel 403 ppi con un'area coperta dal display pari a 85.2% con una tecnologia che è di tipo Super AMOLED tecnologia quindi migliore schermo realizzato display realizzato ovviamente da Samsung Infinity U display per la forma del notch protetto da Gorilla Glass 3 che ha una buona resistenza e graffi sicuramente maggiore rispetto al Dragon Trail sempre 2.5D ai bordi ovviamente neri e contrasti infiniti luminosità massima pari a 646 candela al metro quadro e la luminosità minima è 1.97 metro quadro infatti abbassando diciamo il valore al minimo per entrambi i dispositivi al valore minimo entrambi i dispositivi come vediamo sono più o meno alti diciamo hanno una luminosità minima più o meno allo stesso modo mentre alzando al massimo la luminosità si capisce si intuisce come sia più luminoso il display della 50 però ovviamente avendo una tecnologia Super AMOLED i colori sono più saturi e quindi meno reali rispetto a quelli con tecnologia IPS nonostante comunque in particolare no IPS PLS nonostante il display TFT dell'M20 non sia una Super AMOLED quindi non è dei migliori comunque non sfigura tanto nemmeno rispetto alla 50 sia in termini di gamma cromatica e di nitidezza sia per quanto riguarda la luminosità che risulta comunque elevata però poi ovviamente nel confronto con la 50 si capisce comunque diciamo il display della 50 risulti superiore preferisco però i bianchi dell'M20 perché mi sembrano più reali mentre per contro i neri ovviamente qui diciamo sia nella scala dei grigi che nella scala dei neri non c'è paragone il nero dell'M20 è nero e se lo si inclina rimane sempre nero mentre il nero dell'M20 tende come vediamo a variare in questa tonalità grigia quanto lo si inclina anche di poco per quanto riguarda invece le foto reali quindi tornando sempre a display tester anche in questo caso come vediamo sicuramente migliore la tecnologia Super AMOLED per come vengono viste anche le foto sul display però non mi dispiace nemmeno quella della 50 o dell'M20 nella 50 vengono enfatizzati i colori chiari il verde, il rosa, il giallo sono più saturi però come qualità mi va bene anche quella dell'M20 che di certo non è una brutta non è un display scadente di bassa qualità però anche in questo caso come si vede sia per questioni di luminosità che per di tecnologia utilizzata sicuramente il display della 50 è nettamente e comunque non nettamente ma comunque è migliore fra i due per quanto riguarda invece l'audio diciamo in entrambi i casi con l'utilizzo delle cuffie che sono presenti in confezione e sono della stessa qualità quindi diciamo qualità non dico scadente ma sufficiente non sono cuffie in IR ci stanno possono andare comunque bene però in entrambi i casi è presente il Dolby Atmos quindi quando utilizziamo diciamo le cuffie oltre all'equalizzatore e l'ottimizzazione del suono c'è la possibilità di poter migliorare ulteriormente lo stesso grazie al Dolby Atmos che è presente anche nell'M20 diciamo invece in termini di volume trovo leggermente più alto quello della 50 e comunque anche migliore nei bassi e come qualità mentre per quanto riguarda in voce e squillo si arriva a circa 85,91 dB la 50 mentre invece arriva a circa 80 dB come volume massimo l'M20 alziamo quindi prima l'M20 e ora alziamo al massimo la 50 da come si è potuto sentire la 50 offre una qualità migliore un suono più alto e anche bassi maggiormente enfatizzati anche se poi alla fine i bassi sono più o meno simili quando sono poco udibili comunque migliore per quanto riguarda l'audio l'A50 mentre per quanto riguarda le temperature massime raggiunte nonostante siano realizzate completamente in plastica sarà forse perché il processore è più energivolo quello dell'A50 comunque ha raggiunto anche temperature di 42 gradi centigradi contro i 38 a pieno carico dell'M20 quindi sotto questo aspetto leggermente migliore l'M20 per quanto riguarda invece le fotocamere abbiamo nel caso della 50 una fotocamera principale da 25 megapixel è una f1.7 dovrebbe essere della Sony poi abbiamo una seconda fotocamera grandangolare a 123 gradi ed è in pratica una 8 megapixel f2.2 con sensore ECMOS BSI e una terza fotocamera da 5 megapixel sempre f2.2 che viene utilizzato per l'effetto bokeo o effetto profondità mentre invece abbiamo una fotocamera principale da 13 megapixel per l'M20 è una f1.9 è una seconda fotocamera da 5 megapixel grandangolare a 120 gradi una f2.2 per quanto riguarda la seconda fotocamera dell'M20 nell'M20 quindi manca la terza fotocamera per l'effetto diciamo bokeh l'effetto bokeh infatti viene creato solamente nel caso in cui gli oggetti nel caso in cui ci sono delle figure umane e quindi viene rilevato il volto di una persona e non nel caso di oggetti per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore abbiamo anche in questo caso due diciamo due forme diverse perché nella A50 abbiamo una 25 megapixel f2.0 con sensore ECMOS BSI e lunghezza focale 3.75 mm e con supporto HDR sia per quanto riguarda la fotocamera diciamo anteriore che è quella posteriore quindi in entrambi i casi è presente l'HDR mentre invece abbiamo una 8 megapixel f2.0 sensore ECMOS BSI lunghezza focale 2.61 mm contro 3.75 mm con supporto HDR sia per la fotocamera anteriore che per quella posteriore la lunghezza focale per quanto riguarda quella principale posteriore è di 3.6 mm per l'M20 e di 3.93 mm per l'M50 ovviamente senza che lo sto a dire le foto scattate con l'M50 sono comunque migliori per quanto riguarda qualità nitidezza dettagli raccolti rispetto all'M20 entrambe soffrono di notte ma soffre di più sicuramente l'M20 anche la grandangolare migliore quella della 50 un pochino peggiore quella dell'M20 in entrambi i casi però la grandangolare è buona solo se effettuato lo scatto di giorno poiché di notte è non dico quasi ma è diciamo praticamente inservibile quindi per gli scatti con la grandangolare è buona sono buone entrambe solo se effettuati di notte mentre per qualità di dettagli raccolti la grandangolare della 50 è comunque superiore a quella dell'M20 poi per quanto riguarda il software della fotocamera ovviamente è migliore quello della 50 perché dà comunque più possibilità e questo è legato anche al software che è presente in entrambi i dispositivi perché in pratica andando sulle info del telefono abbiamo informazioni software abbiamo come Android per quanto riguarda l'M20 abbiamo la 8.1.0 con l'ultima Samsung Experience 9.5 le patch di sicurezza sono aggiornate a marzo 2019 l'ultimo aggiornamento ha portato a un miglioramento della risposta del touch e alle patch di sicurezza aggiornate al 2019 le patch di sicurezza secondo Samsung dovrebbero essere aggiornate in entrambi i dispositivi ogni trimestre mentre per fortuna la 50 risponde con la versione nuova dell'interfaccia la One UI 1.1 con l'ultima versione di Android la 9.0 anche in questo caso patch di sicurezza aggiornate a marzo 2019 ha ricevuto un aggiornamento corposo importante che ha portato alle patch aggiornate a marzo e ha migliorato la sensibilità del touch e in particolare anche lo sblocco tramite il lettore di impronta digitale che è posizionato rispetto a quello posteriore dell'M20 direttamente a schermo nell'A50 comunque ritornando al software della fotocamera la diversa interfaccia più intuibile per quanto riguarda quella dell'A50 rispetto all'M20 alla fine le funzioni praticamente sono diciamo più o meno le stesse in alto e qui in basso abbiamo le varie modalità nell'A50 panorama così come per l'M20 pro per entrambi poi c'è la bellezza nell'M20 c'è foco live per l'effetto bokeh su entrambi i dispositivi poi c'è lo scatto automatico che qui viene chiamato fotografia quindi gli adesivi che invece sono posti qui in alto poi c'è il video qui invece si passa direttamente al video poi c'è il rallentatore e hyperlapse per l'A50 inoltre c'è lo scatto multiplo invece per l'M20 andando per esempio in foto abbiamo in entrambi i casi la foto normale o qui con più alberelli l'effetto grandangolare in più c'è l'ottimizzazione della scena che è una sorta di intelligenza artificiale per l'A50 che manca nell'M20 inoltre nell'A50 ci sono in alto gli adesivi che poi sono gli stessi presenti anche sull'M20 sono praticamente diciamo gli stessi quindi le stesse con le stesse funzionalità e poi in pratica è presente il il Bixi Vision che troviamo ovviamente nell'A50 e invece manca nell'M20 con il Bixi Vision una volta scaricato diciamo dallo store di Samsung in relativa componente è possibile scansionare e quantificare oggetti quadri effettuare traduzioni oppure capire le calorie di un cibo eccetera le stesse funzionalità della Google Lens che manca comunque Google Lens manca anche in particolare nell'M20 mentre qui viene sopperito dalla presenza del Bixi Vision quindi migliora la fotocamera mentre entrando nelle impostazioni per entrambi i dispositivi abbiamo come le foto vengono scattate ad un massimo di 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 ad un massimo di 13 megapixel in 4 terzi per il l'M20 mentre nel caso dell'A50 non c'è una grandezza definita perché in pratica nell'A50 c'è solamente il formato il formato 3 quarti in portrait o in landscape 4 terzi dove in particolare è il formato a 25 megapixel però a 25 megapixel non è possibile scattare con l'HDR automatico e cioè o meglio non è possibile scattare con l'HDR che viene disattivato non c'è la possibilità quindi diciamo che nell'A50 abbiamo queste possibilità mentre abbiamo nella vecchia Samsung Experience ci viene riportato esattamente a quanto equivalgono questi formati inoltre su entrambi è presente la possibilità di vedere la dimensione dei video in entrambi i casi full HD a 1080 per 19 30 fps quindi in entrambi i casi non registra una 60 fps in full HD la ripresa video con la fotocamera anteriore è sempre in full HD in entrambi i casi è possibile attivare o meno l'HDR inoltre ci sono poi delle opzioni che riguardano il timer o la possibilità di avere un'efficienza elevata energetica per l'A50 che manca nell'H che manca nell'M20 l'avvio rapido della fotocamera filigrana eccetera più o meno poi le funzionalità sono le stesse qualche cosa in più nell'A50 per quanto riguarda gli scatti catturati in questo caso sono due foto scattate diciamo con condizioni di luce all'aperto piuttosto scarse infatti la giornata era nuvolosa senza l'ausilio dell'HDR e alla massima risurzione per entrambi quindi 13 megapixel 25 megapixel ora tenendo conto dei dettagli catturati sicuramente migliore la 50 anche per quanto riguarda i colori però devo dire che la 13 megapixel si comporta molto bene nell'M20 e non c'è poi alla fine tutta questa differenza se lo scatto viene effettuato con mano ferma poi in questo caso invece c'è una foto scattata con HDR in entrambi i casi ovviamente con l'HDR qui si effettua lo scatto a 13 megapixel qui viene ridotta la risoluzione quindi non è più a 25 megapixel anche in questo caso quindi diciamo c'è nella 50 pochissima differenza tra foto scattata senza e con HDR con HDR sono stati solamente privatizzati un po' i colori mentre nel caso dell'M20 si nota di più la differenza fra lo scatto senza l'HDR e lo scatto con HDR poi è presente in questo caso invece nella 50 lo stesso scatto effettuato senza HDR e con l'ottimizzazione della scena quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ha riconosciuto esattamente il tipo di immagine anche qui non ho notato grandi differenze nelle tre fotografie sono più o meno simili manca ovviamente qui questa invece è la grandangolare maggiore l'angolo di visione 123 gradi contro 120 gradi e migliore anche la qualità del dettaglio perché qui abbiamo una 8 megapixel e qui una 5 megapixel più o meno gli scatti sono equiparabili però si nota comunque un maggior livello di dettaglio nella 50 poi ho effettuato uno scatto con flash fotocamera in verticale con flash la 50 e l'M20 non so perché ma preferisco diciamo come inquadra il flash nell'M20 perché questa questa tendenza giallognola non tanto mi piace nella 50 qui invece è un selfie scattato praticamente di notte si vede leggermente il volto nell'M20 mentre di più viene catturata più luce nella 50 lo stesso scatto effettuato con l'ausilio del flash si comportano entrambi bene sicuramente più luminosa diciamo la foto scattata alla massima luminosità con lo schermo acceso nella 50 rispetto all'M20 qui è una macro con HDR attivo su entrambi i dispositivi come vediamo i colori sono più enfatizzati nella 50 questo invece è un effetto bouquet con la fotocamera anteriore in pratica la fotocamera anteriore nell'M20 utilizza la funzione fuoco live solo utilizzo in pratica lo scontornamento solo se viene inquadrato un soggetto e non per gli oggetti però in pratica anche in questo caso la 50 non solo per il livello dei dettagli ma proprio lo scontornamento risulta migliore rispetto a quello dell'M20 quindi a livello di fotocamera è sicuramente migliore la fotocamera della 50 questa invece è una ripresa video con la 50 di fotocamera E come vediamo la messa a fuoco non è delle più rapide che ho visto nei dispositivi di fascia media, mentre in questo caso abbiamo lo stesso video girato con l'M20, anche in questo caso la qualità è sicuramente più bassa rispetto a quella della 50, però è accettabile. Ovviamente video è scattato all'interno e quasi mi sembra che l'M20 mette a fuoco meglio rispetto alla 50, in questo caso la mano. Comunque nel complesso foto e video vanno entrambi bene, ma sicuramente l'ottimizzazione e la qualità è migliore nella 50, soprattutto per quanto riguarda gli scatti in notturna dove prevale rispetto all'M20. L'M20 in notturna ha una qualità davvero scadente. E con questo concludo in pratica la parte principale del video, nella seconda parte invece farò una differenza legata più che altro al software, alla gestione delle notifiche, eccetera.